Pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, il bando riguardante il Pia Turismo 2024, l'avviso prevede un investimento di 30 milioni di euro per migliorare i servizi del comparto turistico e per qualificare le competenze degli operatori turistici puntando sulla formazione finanziata. Il Pia Turismo 2024 è l'acronimo di Programma Integrato di Agevolazione Turismo. Il suo obiettivo è quello di destinare risorse al comparto turistico, anche per la formazione dei suoi operatori. I piani formativi mirano a superare i gap nell'offerta di servizi e si basano su questi temi. Processi di innovazione, digitalizzazione dei processi, economia circolare e sostenibilità ambientale. La misura è pluriennale e non ha una data di scadenza, ma resterà aperta fino a disponibilità di risorse presenti nel piano di investimento. Le domande potranno essere presentate in via telematica a partire dal 30 aprile 2024.